As-salamu alaykum wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di Dragon's Den. Ma è un bel conto, ma il tuo conto è un bel conto, come in cui ho avuto un po' di modi, e il mio gioco mi faccio un conto, ma non ci sono iniziative, ma non lo sento mai. Invece abbiamo, a un bel conto, ma non è un bel conto. e andi qui a wala tabake niajemi mbekerina banko banko di ngolo vesiri ngambrula nyokan e nko mbe politico la ndekatulafu nadia molo konote nko moli e konte damba damba baroni nkate fai tu kuta wadubi fanole banko di ngolo benya da fontila ngaafu baro eji andu banko di ngolo gambia ngolo rights or la banko la lua gambia la constitution ngaafu baroni ngaafu baroni a la nbini si halite jibwe banko di ngolo banko di nganto soto ni ye kuweje banko wakamia langka mindie yi fundi yela bara ngayitandi barakambia adama baro nsangisa bo siram fundi ta bandankai yi muda formula yako banko la lua ule sembo di atara di ataya mwye uwa kuya time banko la lua sembo di atara yi sandhi lulu Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 ma la mente è questo ma è stato il suo corpo non si troverà la сторону ma era independent ma era un suo Cristo nelle sue decisione ma n���a non dirà il suo Sardegno il suo Sardegno di tutto 20 anni su Sardegno si deveinisc就是說 si spaccrofi Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.